Dopo una lunga riflessione Gabriele Albertini dice no alla candidatura a sindaco di Milano per la coalizione di centrodestra. E' stato lo stesso Albertini a dare le notizie dopo giorni di voci, indiscrezioni e richieste dei partiti interessati. L'ex sindaco di Milano ha dichiarato purtroppo devo comunicare che per un insieme di ragioni personali non posso accettare questa generosa opportunità offerta a me. La sottolineatura Albertini ha poi anche precisato da parte mia massima disponibilità nel corso della futura campagna elettorale ad accompagnare il candidato sindaco, sia nei contenuti sia nella definizione e nella partecipazione ad una lista civica, fattore secondo me fondamentale per la vittoria elettorale. La considerazione politica Gabriele Albertini ha aggiunto credo che per le sfide che aspettano Milano il candidato o la candidata debba essere giovane io al 15 maggio del 1997 quando veni eletto avevo 46 anni e poi il prescelto o la prescelta dovrà rappresentare le categorie produttive in vista dell'imminente ripresa e conoscere tutte le realtà di questa multiforme ed articolata città anche quelle rese più fragili da questa grande pandemia. Grazie a tutti.